Ed eccoci qua sotto le feste di Natale, i viaggi di Adriano non si ferma mai, anche perché la cultura non può fermarsi. Gli auguri ve li faccio fare da Valentina, vai, vale, tanti auguri... No. Ahimma! Nei ferie, Piero! No, c'è qualcuno. Ehi, buon Natale! Siamo tutti in ferie. Siamo venuti solo a salutarti, Piero. Ciao! Tante care cose a te e famiglia. Ciao, ciao, auguri. Auguri? Ciao. Allora, buon Natale pure a voi, dai viaggi di Adriano. Ciao! Buona Pasqua. Sì, buonanotte. Grazie e buone feste. Grazie e buon Natale. Grazie e buone feste a tutti. Stati auguri. Buon Natale! Allora, facciamo gli auguri di Natale. Facciamo questo video per fare gli auguri di Natale, anche per i viaggi di Adriano. No, stai spuntando a fare foto. No, signora, non può fare le foto. Grazie. Buone feste. Oh, dobbiamo fare gli auguri di Buon Natale. Ti ricordi di fare gli auguri di Buon Natale? Da Michela e Martina, buone feste. Ciao. Ciao. Buon Natale e buone feste. Signora, no, stiamo lavorando, non può farci le foto. No, no, no. Buone feste e buon anno a tutti. Grazie e buone feste. Ho capito che stai guardando una cosa, però devi fare che Buon Natale. Auguri di Buon Natale. Buon Natale! Ieha! Oh, ma come si prega! Grazie, buone feste e ricordate che a Natale dobbiamo all'imperatore Costantino il quale inizio... Signora, non può farci la fa... Allora, no, no. Buon Natale un party. Grazie a tutti e buone feste. Grazie a tutti e buone feste. Eppure sto Natale... No. Zang zang!